Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 9 dicembre 2021, su Fano il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 16.30 e dopo la pausa dell'Immacolata riprendiamo questa mattina la nostra rassegna stampa, a partire però dal santo del giorno e dal tempo, le variazioni meteorologiche. Oggi è San Siro di Pavia, San Siro di Pavia è un santo molto antico, fu discepolo addirittura degli Apostoli di Gesù dalla Palestina, giunse in Italia, si fermò a Pavia di cui diventa un grande evangelizzatore, convertendo molti cittadini, atterrò gli idoli, dissipò le superstizioni, operò molti prodigi, fu venerato anche a Verona, Venezia e Milano, un santo ancora oggi molto molto venerato, soprattutto a Pavia. E vediamo ora le previsioni del tempo, il tempo sembra leggermente migliorare, questa mattina su Fano il cielo era abbastanza sereno, il tempo comunque sarà variabile, cieli sereni e precipitazioni specie nelle zone interne dove permangono, c'è anche un sconfinamento però delle piogge sul litorale nel pomeriggio, le temperature sono in calo e vediamo che le minime si attestano sui 5 gradi, le massime sui 9 gradi. Ed ora apriamo i giornali a partire oggi dal resto del Carlino, dove la sintesi della prima pagina è dedicata alla situazione della sanità e dei controlli che le forze dell'ordine fanno per vedere se le persone sono in possesso del Green Pass. Balli senza mascherine e Green Pass è il titolo di apertura, maxi controllo dei carabinieri alla Baia Imperiale di Pesaro, decine di ragazzi sono stati trovate prive di protezioni e purtroppo lì sono multe in arrivo. La grande fotonotizia è dedicata alla cerimonia di ricordo delle vittime della lanterna azzurra di Corinaldo che si è svolta ieri a Fano ma anche a Senigallia, sempre con voi. È una delle parole, è una delle frasi tratte appunto dai ricordi, in modo particolare degli amici. Ecco la foto degli amici e dei parenti, c'era anche il fratello di Benedetta in questo gruppo che hanno ricordato quanto è avvenuto sul sagrato del Duomo. Le altre notizie che vengono sintetizzate. La rabbia dei tassisti, di concorrenza degli abusivi a Pesaro. E poi vengono così celebrati e ricordati i 96 anni di Arnaldo Forlani, sognando la sua Pesaro. Arnaldo Forlani vive a Roma, purtroppo è confinato a casa, è un uomo di veneranda età e sogna di ritornare nella sua Pesaro. Vediamo nelle pagine interne qualche riga a lui dedicata. E poi la lotta al Covid. Vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. La Regione prepara la campagna. E a Fano un avvocato finisce sotto processo per un trasloco. E vedremo chi è. È una persona abbastanza nota. La provincia cede la propria sede. Troppo grande, dice il direttore generale Domenicucci. Cerchiamo un compratore e noi ci trasferiremo. E poi per quanto riguarda lo sport, vediamo la notizia richiamata a fondo pagina. Una brutta notizia per l'Alma. Alma K.O. Russi furioso. insulti inaccettabili. Sì, perché i tifosi non sono rimasti impassibili di fronte a questo nuovo insuccesso dei Granata. Sulle pagine interne. Folla in centro a Pesaro. Ma quasi tutti mascherati. A Baia Imperiale, però il maxi controllo dei carabinieri insieme alla polizia locale. E qui sono stati trovate decine di ragazzi senza dispositivi. E si valuterà ora chi multare. Lo struscio dell'Immacolata, ovvero il passaggio, il passeggio, diciamo così, non fa registrare sanzioni. Anche se ci sono alcune persone restie ad indossare la mascherina. Alle ore 17 in via Branca, molta folla, piove, il centro è pieno, ma sono quasi tutti bravi, dice il giornale. Una tipologia dei rilottanti e soprattutto quella degli anziani che fanno un po' più fatica a indossare la mascherina. E per quanto riguarda invece i controlli fatti a Baia Imperiale, vediamo che il maxi controllo ha comportato 1130 le persone identificate, decine di avventori, senza mascherina, molti, senza super green pass. Questi però sono rimasti fuori del locale, quindi non sono entrati. E per quanto riguarda l'andamento dei contagi, vediamo sul resto del Carlino una linea che a un certo punto, dopo aver salito molto in questi ultimi giorni, si appiattisce. Appena appena lo vediamo in questo punto. I contagi rallentano, la curva si appiattisce. Siamo sul plateau, ma il giallo però incombe. Se ne parla ormai da diverso tempo, da diversi giorni. Questo passaggio delle Marche dalla zona bianca alla zona gialla. Cala l'incidenza in regione, ma prima di apprezzarne gli effetti sulle ospedalizzazioni occorrerà attendere un paio di settimane. Nel frattempo però i ricoveri aumentano e due parametri su tre sono già stati superati, quindi siamo lì proprio per il passaggio. Le limitazioni potrebbero scattare il 22 dicembre. Ancora sul giornale e vediamo ora l'operazione che si sta organizzando all'interno dell'amministrazione provinciale. Qui vediamo la sede della provincia di Pesaro Urbino. Parla il direttore Domenicucci, Marco Domenicucci. Mezzo palazzo è vuoto, ha detto. Cerchiamo alternative più piccole. pensavamo al palazzo della ex banca d'Italia in via Rossini. Però lì sembra che ci sia una trattativa in corso con le dogane e quindi occorre aspettare che cosa deciderà, cosa si deciderà all'interno di questa trattativa per poi la provincia fare la sua offerta. Insomma si cercano compratori. Chi vuole questo grande palazzo, non so se ce ne sono molti, potrà farsi avanti. Ed ecco la foto di Arnaldo Forlani. Un Arnaldo Forlani sorridente. Arnaldo Forlani è ancora in sella al suo cavallo, però ora ormai l'età incombe. 96 anni. Ieri il compleanno celebrato nella capitale del più longevo capo di governo, nonché il più anziano tra gli ex presidenti del Consiglio ancora in vita. Arnaldo Forlani, nato a Pesaro l'8 dicembre del 1925, ha cominciato la sua carriera politica nella democrazia cristiana pesarese, di cui è stato anche segretario provinciale al fianco del senatore Venturi. Una carriera affiancata dall'attività giornalistica prendendo molto presto la strada per Roma. Dal 1962 Arnaldo Forlani è diventato membro del Consiglio nazionale della democrazia cristiana. E poi gli impegni più alti, quelli di capo del governo, ha fatto parte del governo, ha diretto la politica italiana negli anni del boom economico. Ancora tassisti soli contro tutti, troppi gli abusivi in giro, in allarme la categoria a Pesaro, dai guai legati all'emergenza Covid che ha annullato praticamente le corse, a quelli della concorrenza sleale. C'è gente che si improvvisa, dicono, e che si fa pubblicità addirittura sui social senza vergogna, così non va. A fare il quadro della situazione è Filippo Busca del direttivo Radiotaxi che vede associati 24 dei 27 tassisti che operano nella città di Pesaro. E poi ancora sul resto del Carlino vediamo il successo di una manifestazione che ormai è un po' il portabandiera degli eventi che si celebrano in provincia e candele a Candelara. Candele a Candelara, oltre 12 mila biglietti venduti. Grandi numeri solo in cinque giorni, nonostante le inevitabili restrizioni imposte appunto dalla lotta alla pandemia. Bene anche le iniziative di Monbaroccio, circa 6 mila presenze, addirittura centinaia, centinaia di pullman, camper, migliaia di visitatori attratti dalla magia di questo paesino che viene illuminato dalle luci delle candele in un poggiolo, diciamo così, che guarda il mare. Una suggestione veramente così di grande impatto. Ottimi i numeri dal 27 novembre, giorno di apertura dei mercatini, alla festa dell'Immacolata per il Natale che non ti aspetti, veramente un grande afflusso di persone. La serie iniziative del proloco di Pesaro Urbino, in collaborazione con la regione, provincia e candele a Candelara, si conferma insomma la star del Natale. E qui vediamo alcune fotografie, bellissima questa, con questo colore viola, ripresa di notte e vediamo come l'atmosfera è di grande impatto emotivo. Ancora sul resto del Carlino, Fano oggi più che mai il vostro ricordo ci tiene vive. È stata una mattinata di dolore, quella provata ieri da tante persone in ricordo delle sei vittime della tragedia di Corinaldo. Cinque ragazzi e una mamma che sono morti nella calca, che si è verificata nell'uscita dal locale, un'uscita tumultuosa. Mi sarebbe piaciuto, ha detto Francesco Vitali, il fratello di Benedetta, che questa giornata non si fosse realizzata perché avrebbe voluto dire che ero con Benedetta. Ebbene, insomma, un ricordo molto toccante da parte del fratello, ma sono stati diversi i ricordi. Il Vescovo Armando Trasarti, durante l'Omelia, nella messa celebrata in Duomo, ha ricordato un po' il compito della Chiesa, un compito quello di accompagnare il dolore, la sofferenza, ma anche di consolare. E poi, ricordo degli amici, siamo qui oggi per ricordare e non dimenticare, per ricordare e andare avanti, per vivere e sorridere, hanno detto gli amici. Ma soprattutto si è cercato di sensibilizzare le istituzioni, gli operatori, la cittadinanza, a far sì che il divertimento si svolga sempre in sicurezza. E questo è uno dei principali obiettivi che si vuole raggiungere per non far verificare più questi drammi. Presente anche il prefetto, Tommaso Ricciardi, e poi anche il maestro Giulio Mogol, nella sua veste di presidente della SIAE. Il nostro impegno, ha detto, è quello di vigilare sulla sicurezza. A termine di un incontro, poi, che si è svolto nella sala del gonfalone, sono state consegnate i premi per sei tesi che sono state fatte dagli studenti del Politecnico di Ancona su determinati argomenti, come quello della sicurezza e degli aspetti legali della questione. Ripartire da un concerto, sul palco brilla una gemma. È la manifestazione che si è svolta alla Fenice di Senigaglia, sempre in ricordo delle vittime dell'8 dicembre. Ed è l'avvocato Nicolò Marcello, quello che è andato a processo per un trasloco. Vediamo qui la sua fotografia. Lo accusano di essersi preso dell'appartamento avuto in affitto tutte le porte e addirittura anche la vasca da bagno. Le miglierie, ha detto, le ho fatte io. Prima questo appartamento era un rudere. Insomma, ci sono diverse tesi di fronte a questo aspetto. Mancano le porte, mancano le cornici, manca la vasca da bagno. I proprietari accusano l'avvocato di essersene appropriati. L'avvocato si difende. L'avvocato poi è difeso a sua volta da Luca Giardini, il quale dice Il mio assistito è entrato in un appartamento che era ridotto a un rudere. Dovendo realizzare il proprio studio legale per accogliere tanta gente, ha avuto il via libera per fare profondi lavori di ammodernamento. Un'udienza, quella che si è celebrata di fronte al Tribunale di Pesaro, che è stata aggiornata nel mese di febbraio. Nuovo palasporto, che è del genio civile, ora non ci sono più scuse, lo dichiara il vice sindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi. L'amministrazione comunale aveva chiesto un parere in merito alla variante a Chiaruccia. Quanto alle risorse si spera nel PNRR. Insomma 10 milioni che dovrebbero arrivare dalla Europa per realizzare questa grande struttura a Chiaruccia di cui Fano ha un estremo bisogno. Ieri c'è stato anche un incontro particolare da parte di coloro che hanno svolto il loro servizio militare nella caserma Paolini. Sono gli ex commilitoni che sono tornati a Fano tra ricordi e amarezza. Ricordi perché rivivere i tre mesi del CAR passati a Fano è un ricordo che ritira in mente la gioventù. Amarezza perché lo stato della caserma non è certo dei migliori. Sono state così viste la situazione della garetta che è stata distrutta da un incidente automobilistico e poi anche il monumento ai caduti non versa in buone condizioni. L'Oasi dell'Accoglienza ha così ricordato Meuccia Severi, una delle imprenditrici pesaresi degli anni 50 che ha operato nel campo della maglieria, è stata una delle benefattrici dell'Oasi dell'Accoglienza nel giorno in cui avrebbe compiuto 99 anni ed è Maria Chiera appunto che l'ha ricordata. E poi il bollettino Covid della Val Cesano in due settimane, boom di positivi, si salva solo San Costanzo. San Costanzo, vediamo che San Costanzo si salva mentre la Val Cesano ha avuto un incremento del 76,2% passando dagli 84 del 23 novembre scorso a 148 positivi di ieri. Insomma un dato che deve fare riflettere. E veniamo ora al Corriere Adriatico. Novax, linee del bus tagliate e anche il trasporto pubblico che viene posto in evidenza oggi sul giornale. L'azienda dei trasporti pesarese è in deficit di 15 autisti. Tre collegamenti soppressi, corse ridotte su altri 10, sacche di reditenti anche nella polizia. Per il SIULP, il sindacato di polizia, un agente su cinque. A rischio i vigili urbani dei piccoli comuni. Sono gli effetti appunto dell'obbligo di esibire il Green Pass. Altri resistono a questo obbligo e quindi non possono più lavorare. Omicron si affaccia anche sulle Marche. Primo caso rilevato nella regione. È stato riscontrato in una bimba in arrivo dal Sudafrica, in isolamento ora nel Maceratese. E poi tre titoli richiamati a centropagina. Strage di Corinaldo Affano, più sicurezza nelle discoteche. A Pesaro dissidi sui rifiuti. L'assessore regionale Aguzzi non c'entra l'accordo con il Partito Democratico precisa. E in Ancona, Covid maledetto, ragazzina disabile, muore al Salesi. Il Natale che non t'aspetti vuole in alto con Tamberi. Vuole in alto perché Tamberi è il noto atleta che nelle Olimpiadi ha ottenuto il record per il salto in alto. Il campione olimpico è il testimonial del programma. Presidente Proloco gli dà la targa dei sogni alla realtà. Ed eccola la bambina purtroppo che è deceduta al Salesi. Affetta da gravi patologie, aveva superato un trapianto e stata piegata dal Covid. Da un mese lottava appunto in ospedale. E vediamo anche l'articolo che rileva l'apparizione del primo caso di Omicron. una bimba del maceratese affetta di rientro dal Sudafrica. Non vaccinata e asintomatica è atterrata a Roma insieme a un genitore con l'eccezione prevista dal decreto Speranza istituito a fine novembre. Ancora qui il non vaccino era permesso. Su questo articolo vediamo invece il problema dei trasporti pubblici. Per gli autisti Novax tagliati tre collegamenti e le corsi di dieci linee. E vediamo quali sono queste corse. Sono i disservizi di Adria Bus completamente soppresse le linee 70-71 da Rossini Center via Trometta e viceversa e la linea navetta di via dell'Acquedotto. Ridotte le corse sulle linee 9 soppresse dalle 14-15 in poi la linea 13 soppresse alcune dalle 13 alle 14 40-41 dimezzate in tutte le fasce orarie 60-61 dimezzate nelle fasce orarie mattutine e soppresse quelle dalle 2 del pomeriggio in poi. Invece per quanto riguarda il trasporto urbano di Urbino le corse sono state ridotte sulle linee 1-1A dalle 14-30 in poi la linea 6 dalle 18-55 alle 19-15 e la linea 18 dalle 16-20 in poi di servizi che ovviamente si fanno sentire da chi deve andare al lavoro. E poi vediamo ecco qui l'articolo che riguarda gli effetti sulle persone che lavorano in servizi pubblici di grande importanza renitenti pure nella polizia se ne stima 1 su 5 in calo l'anzi il segretario del SIULP sui non vaccinati a rischio le polizie locali anche dei piccoli comuni. In pratica si sta assottigliando il numero degli operatori che tra le fozze dell'ordine in provincia resistono all'obbligo di vaccinarsi. Alcuni sono stati già messi in regola con le disposizioni del decreto legge sul Green Pass altri lo faranno prima della scadenza. Il 15 dicembre prossimo resta però la preoccupazione riguardo a che cosa possa succedere dopo appunto questa data che segna un po' il trapasso. E vediamo ancora sul Corriere Adriatico il problema dei rifiuti. Rifiuti covano dissidi nel centrodestra a Guzzi San Marino scelta in rilevante l'assessore nega un nesso tra il no in commissione e il patto elettorale con il Partito Democratico in vista comunque test decisivi e l'occasione per l'inciampo della politica regionale l'ha fornita proprio la delibera sui rifiuti di San Marino da accogliere. 15 camion di scarti industriali in più rispetto a quelli che già arrivano nella discarica di Caspre e di Tavuglia in base a quell'accordo che è stato stipulato nel 2013. La proposta di delibera per il consiglio regionale è stata bocciata dalla commissione ambiente quindi una delibera che deve essere rivista. E a questo proposito vediamo ancora come San Costanzo si ribelli per l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello che costituisce un disagio di carattere ambientale non poco rilevante per tutto il comune appunto sulla collina di San Costanzo. E poi ancora sul Corriere Adriatico misure anti-smog scattate in città si tratta di Pesaro stop fino agli Euro 3 nella zona blu un provvedimento che è stato assunto anche a Fano finalizzato a preservare appunto la salute pubblica dall'inquinamento atmosferico. si fa di vieto alle auto più vecchie quelle più inquinanti di fare il loro ingresso appunto in alcune zone della città. Polveri sottili rilevati 11 superamenti il comune ha ordinato anche alle imprese di ridurre le emissioni in atmosfera. Giriamo ancora la pagina e vediamo la pagina di Vallefoglia dove si parla dell'abbattimento dei cinghiali gli abbattimenti sono raddoppiati grazie anche alle concessioni che la Regione Marche ha effettuato bene il nuovo corso dell'ambito 1 da 610 a 1229 nel giro di un anno sono stati gli abbattimenti. Il plauso della Col di Retti che vedeva appunto nell'invasione di questi animali predatori gravi danni per le culture dell'agricoltura. E poi discarica abusiva all'oratorio la polizia Lampo dopo la denuncia comune Marche Multiservizi hanno sistemato l'area esterna di San Giacomo adesso tocca all'ex Comaf scusate e questa è la potenza dei media nemmeno il tempo di denunciare raccontata sul Corriere Adriatico l'ennesima discarica abusiva sul territorio comunale di Fermignano che nel giro di 24 ore comune Marche Multiservizi su sollecitazione della soprintendenza ha stata ripulita tutta l'area attorno all'antichissimo oratorio di San Giacomo dunque anche qui qualche volta in media servono le denunce sui giornali ottengono il loro effetto. Siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico l'apertura è dedicata alla giornata in ricordo delle vittime della Lanterna Azzurra vediamo qui alcune fotografie Mogol, presidente della SIAE e qui i partecipanti alla tavola rotonda che si è svolta nella sala del gonfalone per quanto riguarda il problema della sicurezza nel divertimento Benedetta, una ferita che non si sanerà mai le parole del Vescovo Trasarti e la fiducia del fratello spero che cambi qualcosa ha dichiarato per quanto riguarda invece le strutture vediamo che c'è stata l'approvazione del progetto esecutivo del secondo e terzo stralcio del parco dell'aeroporto un avanzamento nell'iter burocratico forse è la volta buona la gara prevista in primavera e la fine dei lavori in cinque mesi quindi nel 2022 il parco dell'aeroporto appena bozzato con una piccola area ludica per i bambini dovrebbe estendersi verso il quartiere del Vallato e ieri si sono svolte anche le manifestazioni non tutte a dire la verità perché il maltempo ci ha messo allo zampino le manifestazioni natalizie nei quartieri Poderino il Natale brilla con un albero splendente questo è un po' il titolo che appare sul Corriere Adriatico giriamo ancora la pagina e vediamo a Senigallia aumento dei contagi caro bollette niente miracolo di Natale a tavola disdette nei ristoranti tra quarantene paure del virus bramucci della Confcommercio potevamo rinascere però purtroppo il Covid non lascia speranze completiamo la nostra rassegna stampa con qualche notizia di sport vediamo che sulla Vis abbiamo qui un'intervista a Pellizzari ora ho fiducia ha dichiarato il difensore della Vispesaro il difensore non giocava dal 10 ottobre il rapporto col mister mi ha fatto sentire parte del gruppo ha dichiarato e quindi una perfetta integrazione in squadra e invece per quanto riguarda il fan al calcio c'è un titolo piuttosto significativo il naufragar non è per nulla dolce come diceva Leopardi la re canatese passeggia al Mancini con un filo di gas appena un filo di gas e impone un sonoro 3 a 0 ai Granata Fiscaletti deve schierare 8 under cioè 8 ragazzi e i suoi reggono il confronto solo per un tempo e allora i tifosi si ribellano se la prendono con il patron russo parte un terrone insomma un epiteto non molto piacevole per il presidente e lui giustamente si arrabbia e vediamo anche il basket VL occhio a Russell e il re dei palloni rubati sabato gara tosta contro il Treviso talentuosi il play e le ventunenne Bortolani già protagonista ma Lamb resta l'arma nuova bianco-rossa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti